Non lo sape che ho la nuca, non lo tagli nei giorni, quando tu non lo tagliate, quando tu mi vuoi accirare il peccato. Sto cantando una canzone, ma che c'è? Cosa stava su da là? Ma che ha ragione? Mi ha chiesto la canzone, la signora la stava cantando, ma quando mai? Io stavo solo cantando una canzone, scusate, ma quando mai? Ma che problema avete? Scusate, forse voi secondo me siete un po' più sicuro. Sto lavorando, sono una persona seria, ma quando mai? Facciamo una cosa, facciamo un po' più sicuro di lavorare, poi dopo ragioniamo. No, 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 no.